Note per John Cage, Il silenzio è d'oro. Ricordo di aver visto dei video e sono rimasta veramente stupita perché c'è questo direttore d'orchestra che fa i suoi rintocchi, dà il via e per 4 minuti e 33 non succede esattamente nulla, nessuno suonerà una nota. Alla fine di questi 4 minuti e 33 secondi il direttore d'orchestra invita i musicisti ad alzarsi. Applausi! John Cage è un genio della musica contemporanea, il suo intento era dimostrare che il silenzio non esiste, quindi semplicemente questo flusso di vita in qualche modo, questi rumori, per John Cage erano musica e divertente come Donzelli di Sacra Tutto, ma chi l'ha detto che il silenzio non esiste? Il suo è un po' un tentativo di smitizzare questi mostri sacri del Novecento, li decontestualizza, quindi li mette in un contesto fatto di oggetti semplici, di frutta, di gelati, di oggetti quotidiani e nello stesso tempo però anche con l'uso della parola, quindi è un gioco divertente ma consapevole.